Cittadini, pendolari, comitati ed associazioni di Fiumicino chiedono a denti locali e ferrovie il ritorno della stazione al centro della città. Tra gli interventi previsti dalla Regione Lazio per la mobilità non è stata infatti inserita la stazione di Fiumicino. È un periodo buono per le ferrovie nel Lazio. La Regione ha approvato i progetti per la riapertura della ferrovia di Terracina, per la riapertura della ferrovia di Gaeta. L'unica che manca all'appello è questa di Fiumicino. Pensare che le altre due ferrovie sono molto più complesse come ristrutturazione. Qui ci sarebbe solamente da fare due chilometri di linea in piano e in rettilinea, sarebbe una spesa molto minore. L'Osservatorio regionale sui trasporti ha inserito il ripristino della ferrovia per Fiumicino come opzione per il piano urbano della mobilità sostenibile di Roma. Bisogna che i fiumicinesi dimostrino la volontà di riaprire questa ferrovia anche andando a votare questo progetto sul sito www.pumsroma.it e far vedere che veramente questa ferrovia ci serve. Una stazione cosa cambierebbe ai cittadini di Fiumicino? Beh, io credo che riattivare una stazione che c'era a Fiumicino e è stata tolta per motivi a me ignoti significherebbe moltissimo per i tanti studenti che studiano a Roma, all'università che tanti lavoratori che devono tutti i giorni affrontare il traffico della Roma-Fiumicino che immancabilmente è intasata tutti i santi giorni, anche i cittadini di Ostia o dintorni, perché no? Il corridoio della mobilità non è sufficiente? Beh, al momento è semplicemente un tampone per fare in modo che le persone possano arrivare senza l'automobile privata alla stazione di Parco Leonardo. Però quello che come Comitato Pendolari chiediamo è proprio il ripristino della stazione ferroviaria a Fiumicino Centro perché prendere tre mezzi per arrivare a Roma diventa problematico e non tutti sono disposti a fare tutti questi cambi. Può tornare la stazione a Fiumicino? Beh, la stazione sarebbe l'optimum, sarebbe ottimale che tornasse perché una città di 85.000 abitanti, nel caso di Fiumicino Isola Sacra 40.000 abitanti che non ha una stazione ha una mancanza grave e quindi noi per sempre e da sempre ci battiamo per questo. A breve noi inaugureremo il corridoio C5 che permetterà un collegamento diretto e continuo con Fiumicino Paese Isola Sacra e la stazione di Parco Leonardo che diventa allo stato attuale la vera stazione di Fiumicino Sud. Grazie alla realizzazione delle nuove piste ciclabili si potrebbe peraltro raggiungere Roma con treno e bici. Da Fiumicino per Cane 10 Paolo Leone